... Rigore, l'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore. Ma che intervento è questo? Il difensore è entrato davvero male su questo pallone per Luigi. Questo potrebbe anche costare la partita alla sua squadra. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provenimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un intervento da punire severamente. Rigore parato! Calcio di rigore fallito che rischia di pesare sul risultato finale e sulla sua prestazione. Vedremo un gol facile facile per lui grazie anche alla complicità del portiere. Un gol facile facile, gli è bastato centra... ...esacerato nel possesso del pallone. A metri a disposizione. Memphis! Si porta da più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la riputata. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli... ...dell'azione ha intercettato bene il passaggio. Occhio all'occasione per riaprire il match e la mette dentro. È sfruttato da... Pogba, in verticale da Pogba. Può mettere da lì. Ecco il gol! Un gol per celebrare al meglio la sua... ...match che resta in bilico come testimoniano infatti le percentuali sul possesso palla. Può andare in porta qui. Eccolo il gol del vantaggio, ma che rimonta! Occhio all'avanzata di Robben. Cerca il pallone profondo. E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato. Adesso è ancora in bilico. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo di avversari. Provo da lontano. Palo e non è finita! Attenzione! Attiva la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Lo supera benissimo! L'azione non è ancora finita. Parata a scuola. Il gol annullato. Ferma l'avversario. Palla in palo laterale. Manca poco ormai. La situazione rimane di parità. Cerca l'impugata per il compagno. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Hanno un'altra occasione. Forse l'ultima per conquistare la vittoria. Occhio al corner. L'anno ganchi qui di tempo al difensore. Palla sulla traversa. Palla ancora in campo. Contrasto eccezionale. Potevano mettere una se... Hector Bellerin. Ecco Musa si soccò. Avanza palla al piede. C'è la prateria per andare. È arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale. Devono mantenere i nervi saldi. Ancora per poco se vogliono portare a casa questa vittoria. Ormai il più è fatto. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ripartenza amicidia. Game over. Era un bel colpo per gli ospiti. Tre punti fuori casa per loro. Beh, una vittoria di carattere. È arrivata al termine di un match combattuto. Grazie a tutti.